Ciao! In questa lezione ti mostrerò come migliorare di gran lunga gli algoritmi seguilinea visti nelle lezioni precedenti a zigzag o a tre zone per renderlo super fluido e reattivo. Resta fino in fondo che ti mostrerò quali sono i migliori blocchi da utilizzare per realizzare questo tipo di algoritmi di controllo. Cominciamo! Il professor Mattoncini! In una lezione precedente abbiamo creato due algoritmi seguilinea, uno a zigzag e l'altro a tre zone. Durante le gare però non si può perdere tutto questo tempo a zigzagare. Spesso intorno alle piste da seguire ci sono degli oggetti da non urtare oppure stiamo già trasportando degli oggetti che volerebbero via a causa di queste accelerazioni brusche. Quindi proviamo a generalizzare il ragionamento fatto in precedenza. Se il sensore vedeva troppo scuro mi spostavo via dal bordo della linea verso la parte chiara. Se vedevo troppo chiaro mi spostavo verso la linea cercando di mantenermi sul bordo. E se invece di andare a scatti sterzassimo in maniera più o meno energica in base a quello che vede il sensore? Ecco un'idea potente. Io potrei sterzare in maniera proporzionale via via più intensa man mano che mi allontano dal bordo della linea. Quindi sterzare in maniera proporzionale rispetto alla differenza, all'errore tra quello che voglio che il sensore veda e quello che sta effettivamente vedendo. Come per le lezioni precedenti sul seguiline utilizzeremo la struttura motrice Lego Spike di cui trovate le istruzioni sul sito Lego Education o nell'app Spike Prime. Aggiungeremo questo sensore rivolto verso il basso. Vediamo adesso come implementare quanto ho appena descritto il linguaggio naturale. Dalla tavolozza nel movimento imposto i motori di movimento come al solito su c più d e imposto la velocità di movimento su quella che voglio essere la velocità di crociera del robot. Cioè quanto deve andare veloce il robot se è perfettamente dritto sulla linea. Se il sensore vede esattamente il bordo della linea. Adesso viene il bello. Dalla tavolozza controllo prendo un ciclo per sempre. Per adesso realizzeremo un robot seguilinea che va avanti all'infinito. Prima di tutto creiamo una variabile che conterrà il valore dell'errore. crea variabile la chiamerò r e poi prendo il blocco porta errore a dentro la variabile errore io voglio scrivere la differenza tra quello che vorrei che il sensore leggesse e quello che vede. Devo calcolare una differenza. Andrò nella scheda operatori e prenderò l'operatore sottrazione segno meno. Adesso calcolerò la sottrazione tra quello che vorrei per esempio 50 voglio che il sensore legga il 50 per cento della luce riflessa. Ricorda che questo dipende dalle condizioni specifiche in cui sarà il tuo robot. È un numero da tarare cioè dovrai impostarlo in base alle condizioni di lavoro. Metterai il robot sul bianco misurerai quanto è il bianco. Poi lo metterai sul nero misurerai quanto è il nero quindi sulla linea piena. E poi calcolerai la media aritmetica per calcolare quanto è più o meno il valore che verrà letto sul bordo. Faccio un esempio. Nel caso ideale in cui il bianco restituisse cento per cento e il nero zero farei la media cento più zero cento diviso due cinquanta e lo metterei qui. Ora in un caso più verosimile io potrei leggere il settanta per cento sul bianco più il venti per cento sul nero novanta diviso due quarantacinque. Nel mio caso in cui il bianco non è molto bianco io appunto potrei leggere settanta sul bianco e venticinque sul nero diviso due quarantasette. Quindi dei valori intorno al quaranta o al cinquanta per cento vanno bene. Adesso qui devo mettere quanto sta leggendo in percentuale di luce riflessa effettivamente il sensore. Dalla scheda sensori prendo il blocco reporter b luce riflessa cioè voglio sapere quanta luce viene riflessa dalla superficie che sta guardando il sensore. Adesso ho calcolato l'errore. L'errore durante l'esecuzione del programma sarà riportato nel monitor delle variabili se avrete lasciato il segno di spunta abilitato qui. Poi calcolo un valore per il parametro di sterzata che sarà proporzionale a questo errore cioè moltiplicherò questo errore per un numero. Questo fattore di scala viene chiamato dagli ingegneri guadagno cioè determina quanto energicamente io correggerò il mio errore. Crea un'altra variabile chiamerò comando cmd per esempio e vado a scrivere dentro il comando un valore che è proporzionale all'errore. Proporzionale significa che è moltiplicato per un certo numero costante che è un fattore di scala. Nel gergo del controllo automatico si chiama guadagno. È un fattore che va tarato quindi io prendo la variabile errore in lettura col blocco reporter dalla scheda variabili lo metto qua e qui imposto un guadagno ad esempio 1,5 cioè un po' più di 1. Adesso questo comando cioè questa sterzata la voglio attuare quindi andrò qui a prendere un blocco via movimento invece di impostare a mano la direzione in cui voglio andare destra sinistra o dritto utilizzerò la variabile comando in lettura come comando di sterzata così. A questo punto la domanda che potreste farvi è ma è allora io come l'ho imposto il guadagno cioè questo numerino come lo scelgo? Un buon metodo potrebbe essere quello di dire ok quanto sarà grande l'errore? Se io vado sul bianco e voglio leggere 50 potrei leggere 90 quindi l'errore sarà 40. Se vado sul nero la luce riflessa sarà il 10 e quindi di nuovo sarà un errore di un valore assoluto 40. Quindi io quanto intensamente voglio sterzare. Ricordate che se io sterzo di 50 una ruota sta ferma e l'altra si muove quindi un buon valore potrebbe essere per esempio qui 1 o un po' di più. Qui si tratta proprio di provare e quindi proviamo. Se poi volete vantarvi forte con gli amici dite loro che oggi avete imparato una tecnica davvero ingegneri dell'automazione il controllore in retroazione proporzionale. Retroazione significa riportare indietro fino all'inizio del ciclo di controllo la lettura fatta dal sensore di quello che ho fatto nel mondo. Quindi misuro, controllo, agisco, misuro quello che ho fatto, cambio il controllo, agisco e così viene un ciclo infinito. Ripartendo dal nostro programma adesso possiamo pensare di andare un po' più veloci perché questo algoritmo funziona bene ma il robot è un po' lento. Qui di nuovo io vi invito a andare per tentativi per esempio cambiare la soglia e metterla più bassa il che significa il robot si terrà un pochino più verso la linea sempre sul bordo e qui posso provare ad aumentare la velocità da 30 a 50 sempre più in alto. Evitate di arrivare fino a 100 perché altrimenti poi il robot non ha più margine sulla velocità dei motori per compensare la sterzata. Il motore è già alla massima velocità e può solo rallentare. Io voglio esagerare possiamo metterlo fino al 75%. In questo caso però noterete che dovremo abbassare il valore del guadagno perché il robot se no tenderà a oscillare moltissimo. Provate ma adesso vi faccio vedere come si comporta con un guadagno più basso per esempio di 0,9 cioè un pochino sotto 1. per movimenti lenti il robot funziona bene ma se il robot va troppo veloce si cominciano a evidenziare delle oscillazioni lenti intorno al bordo della linea specialmente se il robot parte con il sensore che non vede esattamente il bordo. Questo è causato dall'utilizzo del blocco avvia movimento. Infatti come ho spiegato in una lezione precedente tutti i blocchi in movimento cercano di controllare finemente la velocità dei motori e anche tenerli in sincrono tra sé in modo che si aspettino l'un l'altro. Questo ciclo di controllo lavora a livello di firmware cioè a un livello più basso a uno strato inferiore del software più a contatto con le parti meccaniche fisiche del robot. Questo controllo di velocità che di solito ci è utile specialmente per le rampe di accelerazione e decelerazione adesso è un problema perché rallenta il nostro ciclo di controllo per il seguilinea e quindi peggiora le prestazioni. Come fare quindi a bypassare cioè a scavalcare questo controllo di velocità? Togliamoli rimane il blocco per sempre il ciclo di controllo primario. Dovremo andare nella tavolozza altri motori che è un'estensione e andare a prendere il blocco avvia motore a una potenza del. La differenza fondamentale tra potenza e velocità è proprio questa. Questi blocchi avviano i motori impostando la tensione cioè quanto velocemente devono girare e poi non tentano di compensare eventuali rallentamenti sotto carico dei motori sotto sforzo né tenterà di tenere i motori sincronizzati tra sé. Per i più esperti devo dire che questo valore in percentuale di potenza non è una potenza in realtà è il valore espresso in percentuale del duty cycle dell'onda quadra che controlla la tensione dei motori. Nell'utilizzare questi blocchi però dobbiamo pensare anche che uno dei motori montato a specchio rispetto all'altro quindi per farlo andare avanti dovremo impostare una potenza negativa. Per fare questo quindi dovrò usare qui dei blocchi somma anzi per essere precisi sottrazione per far andare il robot in avanti quindi ci andrà impostato su meno 60 se voglio che il 60 per cento sia la potenza di crociera la potenza a cui vanno i motori se il robot vede perfettamente la linea e va dritto quindi D gira in avanti e va dritto C deve andare all'incontrario poi dovrei aggiungere da una parte sottrarre dall'altra il fattore di sterzata in questo caso dobbiamo sottrarre da entrambe le parti perché C deve andare all'indietro è controintuitivo però vedrete che funziona. Qui quindi adesso io vado a sottrarre da una parte aggiungere dall'altra qui sarebbe 60 meno comando e nel motore C 60 più comando ma è tutto negativo perché il motore è montato a specchio e comando a questo punto andrà però adattato quindi cambiando il guadagno rispetto a prima perché questo parametro ora ha un significato completamente diverso non è più la percentuale di sterzata è la percentuale di potenza che tolgo a un motore e aggiungo all'altro per far sterzare il robot ricordate che prima non c'era bisogno di considerare questa potenza negativa perché ci pensava il blocco imposta motore di movimento impostando c più di si impostava un motore per girare all'incontrario vediamo come funziona quasi magia c'era un cartone nella scelta della velocità di crociera in cui il robot va dritto e del guadagno dovrai trovare dei compromessi se il guadagno troppo basso le correzioni saranno poco efficaci se il guadagno troppo alto il robot comincerà a oscillare anche per piccolissimi errori intorno al bordo specialmente se il robot va troppo veloce ricorda comunque che in gara è meglio un robot preciso di un robot veloce o te controllore in retroazione proporzionale semplice e potentissimo mica ciufoli stritella al tasto mi piace a non perderti il prossimo video che ti mostrerò come far fermare il robot seguilinea a un incrocio o dopo una certa distanza resta giovane Giacomo Adino ciao